Benvenuti nella ripresa di Sesao, uccidiamoli, playoff, quarti di finale, è cambiato il parziale, 3-1, la doppietta del solito Santa Fe-Alfano, ha cambiato finora le sorti del match, qui ancora Alfano, progressione, saltamontori, Alfano! E qui fa una grandissima parata Mosella, che si riscatta dopo aver preso gol da dietro centrocampo da Alfano, con un bolide, palla dentro Mosella con i pugni, ancora la conclusione Mosella, in qualche modo, in angolo, palla dentro, secondo palo Marino, Nasti, poi Piccirillo, De Vita in aria, l'appoggia Marino, alza la testa, ancora De Vita, si gira e calcia, Montori le spinge, Poi Cocozza, Pipitone, cerca qualcuno, trova Pappone sull'altra corsia, Pappone, finta, ancora Pappone, salta 2, Pappone, e sbaglia qui, non si intendono, Pappone e Pipitone, sbaglia Montori, poi ancora Pipitone, palleggio, ancora Pipitone, si fa vedere Cocozza, riceve il pallone, Cocozza, numero, destro, palla che rimbalza a terra e termina sul fondo, lo rinvio, Pappone, non trova nessuno, Marino, attaccato, poi De Vita, mette giù, cerca il pallonetto, blocca Mosella, Palla a Pipitone, mette giù il pallone, attaccato, va giù, calcio di punizione, intanto c'è stata una vera unica di Pipitone, Cocozza va giù, altra punizione, altro fallo di Piccirillo, li sta battendo tutti, Punizione uccidiamoli, va Cocozza, col destro, è preciso, ci mette una mano, il portiere della Selesao e salva in calcio d'angolo, deve accelerare la formazione di uccidiamoli, ora sotto di due, Cocozza, dribbio in secco, ancora Cocozza, la finta, che numero, destro, devi azione, Pappone, poi pallone che arriva direttamente a Mosella, alza la testa, cerca il passaggio verso Pipitone, che fa un numero, altro numero, poi Nasti, Pappone, ancora Pappone finta, Pappone prova il numero, troppo individualisti in squadra degli uccidiamoli, Cocozza, ancora in mezzo a tre, allarga l'indietro verso Pappone, Pappone, cerca spazio la formazione degli uccidiamoli, Pappone salta l'uomo, ancora Pappone, Pappone cerca, Nasti non lo trova, ancora Pappone, che rinvia Bocchetti, rimessa laterale, Cocozza di testa, spizza per Nasti, chiuso dal fano, occhio a Cocozza dentro, colpo di testa di Montuori, non ci arriva, rimessa dal fondo, anzi no, rimessa laterale ed è anche degli uccidiamoli, con Pipitone, che cerca Nasti, prova l'1-2, chiuso Pipitone, la tiene in campo Bocchetti, 2 contro 1, rimessa dal fondo, Pappone, prova, Alfano, in respinta, può essere una soluzione, chiave, la conclusione dalla distanza di Pappone, colpo di testa di Nasti, anche Bocchetti, De Vita, rinvia direttamente sotto l'ombrello, che si può anche rompere, Montuori, colpo di testa di Piccirillo, ancora Montuori a chiudere, poi c'è De Vita, lasciato Alfano, Alfano accelera, Nasti su di lui, Alfano si gira, cerca di portarsi la palla sul destro, serve De Vita, prova da lì, De Vita, Mosella, con qualche difficoltà, poi Biancardi, per Marino, chiude Montuori, ancora Marino, palla sul sinistro, dentro, l'impallo, multiplo, e poi grandissimo passaggio di Pipitone per Cocozzo Nero, Cocozzo, 3-2, 3-2, ma che passaggio di Pipitone, Pazzesco, 3-2, verticalizzazione straordinaria, ed è 3-2, batte Alfano destro, Mosella, Cocozza, viene a prendersi il pallone in difesa, salta il primo, Cocozza, salta il secondo, ma c'è De Vita, poi Mosella, lascia scorrere, attenzione, colpo di testa, arriva Pipitone, mette giù il pallone, Veronica, Pipitone, servito Montuori dentro, attenzione, Cocozza, pareggio incredibile, ha segnato, ancora Cocozzinio, tripletta per lui, ruba la scena a tutti, Alfano, dalla battuta a destro, Cocozza, ed è anche rimessa per gli uccidiamoli, ce le sa ora, in difficoltà, calvanizzata ora la formazione degli uccidiamoli, fa la linea di coda di questo torneo, palla dentro, salta Montuori, Alfano per primo, arriva Pappone, Papponzo, tifosi, tifosi tutti per Pappone, Pappone, non so a chi darla, serve Montuori, ancora Pappone, Cocozza, arma al sinistro, eccolo, che gol incredibile, che gol incredibile, è passato in vantaggio, avvicidiamoli, è un gol bellissimo di Cocozza, poker d'assi, poker d'assi dal suo piede, intanto Mosella prega e ringrazia qualcuno lassù, guardate lì, batte Alfano, prova a castigarlo, Mosella con i pugni, in calcio d'angolo, calcio d'angolo, Biancardi, per Marino, Alfano, Alfano ancora, la finta è rimessa laterale per gli uccidiamoli, palla dentro, Alfano, di petto, allora Pippitone, Palla per il rinvio di Bocchetto, rimessa laterale, Cocozzinio, cerca Pippitone, col petto, Pippitone, sbaglia qui, Marino, serve Biancardi, di prima per De Vita, buono lo scambio, poi Montuori, Cocozza, attaccato alle spalle, ancora Cocozza, che finta, Cocozza, avanza, destro, palla che sfiora l'incrocio dei pali, pazzesco, che spettacolo, guardate Mosella che fa il treguardo, tremano tutti, Alfano numero, Alfano, c'è Nasti, punizione, la punizione, va Alfano, bordata a Mosella, non è finita, Alfano, la rovesciata, tutto regolare, lisciata, la rovesciata d'Alfano, pallannasti, non arriva, Alfano, la domestica, se l'allunga, poi arriva Pippitone, attenzione, Alfano, ci butta tutti per l'aria, questo ombrello è sacro, non si romperà mai, ok, e c'è stato il pareggio della Sele Sao, perché un certo Mosella si è venduto la partita, se l'è venduta, è uscito, come un cazzone, incredibile, 4-4, Cocuzza, è uno schema, Pippitone, sinistro, fuori, Montuori, Nasti, non riesce ad agganciare il pallone, De Vita, finta di De Vita, cosa ha fatto De Vita, sembra un altro giocatore oggi, Alfano, per Marino, Cocuzza prova a partire, Alfano lo ferma, ancora Marino, Pappone, di prima per Cocuzza, colpo di testa di Dario Bocchetti, palla dentro, la tiene lì, Pippitone, metto giù il pallone, arriva Marino su di lui, ancora Pippitone, non la perde, prova il tunnel, poi Biancardi, arma al sinistro, se lo allunga, arriva Pappone, e lo ferma, anzi no, regolare, fallo di Pappone, parata di Mosella intanto sulla punizione, Nasti prova a ripartire, Alfano, arma al sinistro, si gira, destro, che gol, che gol di Alfano, che gol di Alfano bellissimo, che spettacolo, 5 a 4, Pippitone, altro schema per Cocuzza, sinistro, deviazione, angolo, gli uccidiamoli, non mollano, fino alla fine, Cocuzza, direttamente che porta deviazione, si salva la Sele Sao, ma questo risultato, molto dubbio, perché la prestazione di Mosella quest'oggi è un po' altalenante, da grandi miracoli a pazzesche papere, Alfano, Alfano, numero Alfano, palla, mirata nell'incrocio dei pali, fuori, Mosella, per Ciro Montuori, Cocuzza, allarga Pippitone, un po' lunga, ci arriva, Pippitone, prova, sbaglia la conclusione, poi pallone a Mosella, arriva Marino, attenzione, ora c'è un uomo in più, che è Marino in avanti, palla dentro, Cocuzza, ottimo aggancio, Cocuzza, Cocuzza, un gol incredibile, un gol meraviglioso, Cocuzza, pazzesco, esplode l'anfield, mamma mia, che gol incredibile, pareggio 5-5, cinquina di Cocuzza, Alfano, prova a far passare di nuovo in vantaggio la sua squadra, Mosella, chissà se ora Mosella farà un'altra pastetta, Cocuzza, sombrero, palla sul sinistro, fuori, palla rinviata, pesta laterale, attenzione, c'è Mosella, c'è Cocuzza che spinge in avanti, pallone per lui, Bocchetti, punizione interessante per la Sele Sao, Alfano e Bocchetti sul pallone, se tira Bocchetti, secondo me non c'è scampo, sistema la barriera a Mosella, Bocchetti, va col destro, direttamente in curva a sud, rimessa laterale, Cocuzza, ci prova, deviazione di Pipitone nel fondo, Bocchetti per Piccirillo, l'aggancio, ci prova, fuori, rivedo dal fondo, Mosella, tutto chiuso, sbaglia tutto, Mosella sbaglia, e c'è il gol del 6 a 5, Mosella secondo me si è venduto la partita, lo dico ancora, Cocuzza d'esterno, 6 a 5 il risultato, Mosella se ne è fatti 3, ha fatto anche delle straordinarie parate, ma ha fatto 3 gol da solo, come commenti Andrea? Uno strunz? Sì eh, dritto e chiaro, Cocuzza è alta, affano di testa, attenzione a Marino, non ci arriva, Bocchetti, in qualche modo in avanti, rimessa dal fondo per Mosella, speriamo che non ne combini un'altra delle sue, manca poco, ormai alla fine gli uccidiamoli immeritatamente sotto, Pappone, è immeritatamente detto sì, messa la terra, leva a Pipitone, mazza la testa, cerca un compagno, Cocuzza abbracciato, forse c'è un fallo, numero di Cocuzza, e poi Montuori, vela direttamente per Mosella, che esce dai pali, Mosella prova al destro, è una gran botta, fuori, attenzione Biancardi, Montuori riesce a chiudere, palla a Pappone, liscia Cocuzza qui, poi Biancardi, De Vita, chiuso da Pappone, con questa è la rimessa, in velocità per Cocuzza, Cocuzza, alza la testa, prova al sinistro, è una finta, serve Pappone, ha spazio, arma al destro, la finta invece, ancora Pappone prova a passare, Nasti, è una dissimazione, calcio di rigore, calcio di rigore, uccidiamoli, calcio di rigore, per i uccidiamoli, Vaco Cocuzza, ne ha già fatti cinque, Vaco Cocuzza, piazzato, 6 a 6, una partita interminabile, infinita, che spettacolo, attenzione a Fano, prova, quando ormai si tira, è un terno all'otto, può uscire un miracolo o una papera, Mosella, cerca a lungo, occhio a Cocuzza, no, incredibile, forse il gol più facile dei sette, e lo sbaglia, Biancardi, Biancardi numero, Montuori recupera, Cocuzza parte, salta a 2, rimessa per la Selesao, che deve spingere, se vuole passare questo turno, e non andare ai calci di rigore, palla dentro, Pipitone, punizione, punizione, Selesao, è il pallone della partita per Alfano, che va con la bordata, Cocuzza, una siringona, Piccirillo, sbaglia tutto, rimessa, uccidiamoli, 4 contro 3, colpo di testa di Nasti mancato, palla da Alfano, provano a murarlo, è il pericolo numero 1 della partita, Bocchetti, Bocchetti, avanza, Bocchetti, non è uscita dice l'arbitro, e poi Montuori con esperienza, però sbaglia, regala la palla da Alfano, sul sinistro, fuori, ultimo minuto, ultimo giro d'orologio, Pipitone, finta, numero, Pipitone, che numero, Cocuzza, che spettacolo, Cocuzza prova il giro, peccato, ma blocca il portiere, devono tornare ora quelli che gli uccidiamoli, palla lunga, Biancardi, De Vita, Mosella, palla a gol, per Carletto De Vita, ha fatto una gran parata stavolta a Mosella, dobbiamo dirlo, ultimazione, ultimazione della partita, all in the box, palla lunga, c'è Biancardi, che sbaglia, palla lunga, attenzione, Biancardi, Nasti sul pallone, è una mischia furibonda, Mucchio Selvaggio, palla da Alfano, che l'aggancia, numero, Pappone, è finita, si andrà ai calci di rigore!